Grazie a questo piano regionale che vuole restituire forza a tutte e quattro le aziende, nel caso di Marche Nord significa recuperare per la prima volta una piena capacità operativa, quindi al servizio della comunità locale ma soprattutto di quella regionale, perché ricordiamoci che un'azienda ospedaliera deve coprire un bacino ben superiore a quello del suo territorio. Poterlo fare con tutti i professionisti e una forza anche dal punto di vista della struttura, in termini umani di grande qualità, ci permetterà finalmente di rispondere al quotidiano del cittadino che vuole più servizi rispetto al problema delle liste d'attesa, ma anche sviluppare quell'altra specialità che serve poi per rispondere ai bisogni più importanti. Sistemato all'interno che è molto importante il contenuto, anche il contenitore è strategico perché dover operare su tre strutture distinte è veramente un pala al piede rispetto all'azienda. Io credo che siamo abbastanza vicini, il lavoro fatto nei confronti del territorio è stato un lavoro che ha spinto soprattutto a dare valore all'azienda unica e alla necessità di andare verso un'unica struttura. Siamo secondo me alle battute finali, io spero fino all'ultimo di trovare un accordo condiviso nella consapevolezza che oggi l'ospedale della città non esiste più. Il dibattito politico spesso finisce lì, perdiamo il nostro ospedale, acquistiamo un ospedale. Queste strutture hanno un bacino come l'azienda ospedaliere di 600 mila abitanti, quindi sono patrimonio di tutte queste comunità, così vanno pensate e uscendo da una logica campanilistica molto brevemente troveremo insieme la soluzione. Abbiamo avuto un breve periodo che è stato un po' le ragazze.